Nel 2021 il traffico di sostanze stupefacenti in Abruzzo è aumentato più che nel resto d'Italia. Si registra più 80%. Tra le province Teramo è al primo posto con oltre 229 kg di stupefacenti sequestrati, soprattutto marijuana, seconda classificata pescara con oltre 159 kg, ma è al primo posto per cocaina sequestrata. La provincia aquilana batte però di gran lunga le altre per quel che riguarda la quota di stranieri denunciati o arrestati, soprattutto marocchini, albanesi e nigeriani, anche se la stragrande maggioranza delle persone denunciate o arrestate in Abruzzo è di nazionalità italiana. Sono gli ultimi dati che riguardano le operazioni delle forze dell'ordine elaborati dalla Direzione Centrale dei Servizi Antidroga del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e resi noti oggi dal senatore Luciano D'Alfonso, presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, il quale nel corso di una conferenza stampa tenuta a Pescara si è impegnato a far aumentare le risorse del Fondo di Intervento per la Prevenzione e il Contrasto delle Dipendenze. Sappiamo come si può potenziare e rafforzare, lo dice l'Europa, lo dice il piano triennale del Ministero delle Politiche Giovanili che riunitosi in un appuntamento annuale a Genova ha precisato la fondamentalità di lavorare sui dati probanti che derivano dalla realtà osservata, monitorata, che veda il protagonismo dei soggetti del terzo settore, dei mondi vitali del terzo settore, comporre la volontà di lavoro di questi soggetti, la loro esperienza con i poteri territoriali, regionali, in maniera tale che alla prossima stagione di assegnazione di risorse noi possiamo andare oltre l'assegnazione burocratica del rapporto Italia-Stato membro-Ministero vigilante-Regione-Soggetti territoriali. Dobbiamo aumentare la copertura finanziaria. Per fare in modo che le risorse siano maggiori, più adeguate, più coerenti c'è bisogno di fare una proposta costruita sui dati. Si tratta soltanto di mettere a sistema. Poi facciamo un appuntamento annuale per stimare, per valutare, per misurare l'esito delle politiche che abbiamo messo in campo e cosa serve in più da integrare di anno in anno. Noi dobbiamo recuperare capacità di lavoro sul lato della prevenzione sapendo che abbiamo le bravure e le professionalità.